Salve amici, buonasera. Ciao a tutti ragazzi. Lei è Ilenia e lui è papà. E oggi Ilenia ci farà vedere come faccio i vasi di me contro te. Dai Ilenia, vuoi iniziare? Cosa hai preparato? Allora, cosa dovrete usare? Dentro alla confezione, che questa macchinina qua, si troverà solo in edicola oppure in qualche altro posto, allora vedete dentro ci sta questa piccola rivista che io ho già visto e quindi so come si usa, vero? Allora, dovete prendere il DAS che esce già e lo posizionate qua. Poi, dopo che l'abbiamo posizionato, ci bandiamo le mani e bandiamolo un poco. Così almeno facciamo più. Ops, si è bucato un poco, fa niente? Anzi, prendo un poco di questo. Prendo un poco. Se si buca, fate così come me. Fate così. Ecco qua. Prendete un poco d'acqua. Perché è molto asciugato e quindi non l'avete bagnato quando avete iniziato, allora fatelo così. Se si buca tipo, altrimenti se non si buca meglio per poi. A me mi succede ogni volta che faccio il vaso, non so perché, bo... Allora, poi qui dovete mettere la mano qui sotto perché ci sta una piccola cosa che fa girare qui. Io direi di bagnarlo un po'. Ok, dai, bagniamolo. Bagniamo un poco perché è molto asciugato e si potrebbero fare dei buchi. Ecco qua. Già stanno dati pochi anni, vi preoccupate dopo, dopo, tanto rimediamo. Poi lo dovete lasciare asciugare 24 ore e poi lo troverete bellissimo. Come ho fatto io una volta. Mettete sempre la tovaglietta sotto, eh? Ok. Sta continuando per bene. Io devo provare tanto a fare delle linee, quindi le faccio. Io, cosa vuoi dire alle tue fani? Che... Mi dovete scrivere al canale, attivate la campanella in via per alzare e tantissimi polzioni in su. Ciao! Più mi scrivete, più tangitivete. Che forma gli sta dando? Mi sta dando una forma del vero vaso. Così lo sto mettendo più liscio. E poi lo sistemiamo, così almeno è più liscio quando lo sistemiamo. Ok, mettiamo un attimo stop. Perché dobbiamo aggiustare un attimo queste linee. Perciò? Ok. E vedete come si va. Allora, mettiamo un altro pezzo un po' qua. qui, ecco qua, un po' qua. Ecco, così. Benissimo. Oggi mio padre è il mio telecamere. Andiamo un poco a tagliare queste parti che sono venute. Ok.